Stracchino bontaviva, light, meno 40% di grassi, così potete abusare di stracchino se come me siete pesanti abusatori, almeno non ingrassate più di quanto sono già grasso andiamo a spacchettarlo lo stracchino light, apriamolo un involucro morbido che presenta una vaschetta più solida al suo interno alla scadenza di questo stracchino, scadeva ieri pare un blocco di neve dentro a minecraft questo stracchino è scaduto ieri è un po' un trend che abbiamo visto che quelli magri o senza lattosio non sono i migliori consistenza 1, è indecente perché bontaviva, schifezza morta, è sempre stracchino quindi è buonissimo stabilità non pervenuta stabilità è due sa di cartone raga ha un leggerissimo gusto dolce due anche qui ma con 5 punti non ha fatto una buona figura grazie a tutti